è pericoloso scoppia massimiliano varrese contro mirco brunetti attimi di forte tensione al grande fratello durante il lancio della pubblicità proprio così durante la diretta e dopo un acceso dibattito tra mirco brunetti perla vatiero e giuseppe garibaldi alfonso signorini lancia i consigli ed è proprio a questo punto che decide di intervenire massimiliano varrese e dire qualcosina di molto pungente a mirco brunetti come sappiamo fin troppo bene brunetti ex partecipante al reality ha dichiarato di non provare gelosia per l'amicizia tra i due concorrenti sostenendo che non crede che l'assistente scolastico nutra un interesse particolare per l'ex di mir tuttavia il ragazzo non si è fermato qui cisto che ha lanciato anche un affondo a massimiliano varrese al termine del suo intervento brunetti ha voluto rivolgersi direttamente all'attore parlando ad alfonso signorini mirco brunetti ha chiesto ma max mi sento è pericoloso scoppia massimiliano varrese contro mirco brunetti ricevuta una risposta affermativa ha proseguito max non ho bisogno di fare il gioco da fuori perché penso tu te ne sia accorto venerdì con l'aereo che è passato varrese che fino a quel momento stava sorridendo a pieni denti ha improvvisamente cambiato espressione non ha avuto l'opportunità di rispondere poiché il presentatore ha interrotto il discorso e ha chiuso il collegamento con la casa